Ci eravamo lasciati con la lettura del frammento 1 del Perifius Eos di Heraclito. Vi avevo accennato sul significato di questo frammento, sul significato che noi diamo a questo frammento, sulla scia delle ricerche fatte da Antonio Capizzi, che poi si basano naturalmente sugli studi di Evlok, e sulla scia degli studi antropologici di Jean-Pierre Vernin e studi storici, per esempio, di Santo Mazzarino. Per fare alcuni nomi che hanno preso parte a questo tipo di ricerca sulle origini della filosofia. E' un tipo di ricerca, come già ho accennato nei video scorsi, che fa riferimento a studi di tipo storico, antropologico, sociologico e filologico, che riguardano la nascita della filosofia. Ed è a questi studi che anch'io mi riferisco nel riportare a voi, quanto sto dicendo, sulla nascita di quella che viene detta filosofia. E come avete capito, non ha tanto a che vedere con l'impostazione che da una parte ha portato Platone, e poi ha portato Aristotele, a quanto noi intendiamo per filosofia. Ora, in questo video oggi, andremo ad analizzare nel dettaglio questo frammento 1 e in parte altri frammenti. Frammento 1 e frammento 2 in particolare, in parte altri frammenti di questo scritto di Eraclito. E prima, proprio all'inizio, proprio questo momento iniziale di apertura, voglio che sia chiaro che è dovuto questo mio momento iniziale di apertura verso di voi, nello spiegare un testo, fate bene attenzione a quanto sto dicendo, E' la stessa posizione assunta da Eraclito nel cercare di spiegare il testo delle leggi redatte dal nomoteta ermodoro ad Efeso. Ripeto, la postura che tengo io in questo momento è una postura dovuta ad Eraclito. Questo è un fatto fondamentale. Quindi, il fatto che io mi metto qui a spiegare a voi, o cercare di spiegare, senza pretese, comunque, la postura che assumo nel leggere un testo scritto e cercare di spiegarlo, ok, è la postura che assume per primo Eraclito, se non per primo tra i primi. E attesta nel suo scritto per i Fiusos, proprio questa postura. Questo è il momento iniziale, molto importante da capire. Cercherò di renderlo ancora più esplicito. Quando vedete voi in un congresso, andate in un congresso, andate in un convegno, ma andate allo stesso Parlamento, osservate quello che accade nel Parlamento. Che cosa accade? Accade che qualcuno si prende dei fogli di carta, oggi di carta, all'epoca magari erano di papilo, oppure scritte su tavolette di legno, o quello che volete voi. Prende questo scritto, è scritto, lo legge, e nello stesso tempo cerca di spiegare, commenta quanto sta leggendo. Capite? Questa non è una postura data all'essere umano, né una postura che viene spontanea per l'essere umano. È una postura culturale. Chi ha tenuto questa postura culturale? Chi attesta di avere tenuto questa postura culturale, tra i primi che attesta questa postura, vi è proprio Eraclito. Ed il fatto di attestarlo nel suo stesso scritto, è ciò che noi oggi andremo a vedere. Vi avevo accennato la volta scorsa che, grazie agli studi di Evelok, sappiamo che lo stesso Solone, ad Atene, interpretava come un araldo le leggi scritte. E li interpretava per chi? Avevamo detto che li interpretava per i magistrati che dovevano fare seguire quella legge. E perché li interpretava e li leggeva per loro? Li interpretava e li leggeva per loro? Perché in molti casi questi magistrati non sapevano leggere. Quindi questo è il primo passo da capire. Quindi per capire bene la lettura di questi frammenti di Eraclito, vi andrò a leggere dapprima quanto dice Evelok riguardo alla diffusione della lettura del testo scritto in quell'epoca. Nel testo The Pre-Literacy of Ricks di Evelok leggiamo «Gli inventori e per lungo tempo gli abituali fruitori dell'alfabeto erano artigiani e mercanti. Senza dubbio, quando venne in molmento, le classi non lavoratrici presero una qualche familiarità con le lettere. Ma la misura di questo fenomeno rimane problematica poiché essi avevano scarsi motivi per adoperare tale capacità fino ai decenni intermedi del V secolo. I figli dell'artigiano andavano a lavorare in bottega prima della pubertà e se imparavano le lettere è là che le imparavano». Cioè i figli dell'artigiano imparavano le lettere in bottega mentre imparavano il mestiere. Il ragazzo della classe superiore cioè il figlio dell'aristocratico diciamo così prolungando la sua educazione per tutta l'adolescenza aveva il tempo di approfondire le arti raffinate ma tra le arti raffinate non era inclusa la lettura. L'avevo anticipato nel video scorso. Durante l'ultima parte del VI secolo e la prima parte del quinto quella capacità comincia a diffondersi la capacità di leggere. Sebbene io sospetti dice Evelok che le classi governanti siano state le ultime ad acquistarla ma si tratta di una capacità di decifrare piuttosto che di leggere correntemente. noi ci siamo ancora anche questo. E' come se voi risolveste una codificazione non leggevano per come leggiamo noi guardavano i segni e cercavano di capire intendere ciò che i segni significavano. questo era questo lavoro di decodificazione della scrittura. Le leggi di Solone erano probabilmente scritte sulle facce di un qualche meccanismo rotante. Non so se qualcuno di voi è andato in Tibet e li vede queste ruote che girano dove sono scritte le preghiere tutt'altra cosa. però Evelok immagina che le leggi di Solone erano scritte probabilmente su un meccanismo rotante. Questo ruotava e chi sapeva decodificare questi segni è come se leggesse appunto le leggi stesse. Ciò avveniva nella prima parte del VI secolo. Era a beneficio del comune elettore o era una corte di ultimo appello fatta per essere consultata in caso di necessità e letta da quelli che avevano la competenza richiesta? Cioè a chi erano dedicate diciamo queste macchine? La risposta sembra essere data dalla prassi seguita da Solone stesso. Cosa faceva Solone? Faceva questo. Riproduceva le sue norme in componimenti poetici. Cioè c'erano delle leggi scritte e quindi in una certa forma scritta erano espresse le codifiche delle leggi. Ok? Però Solone traduceva poi le leggi in un componimento poetico. Perché? Perché questo era più fruibile dal popolo e da chi ascoltava e non sapeva leggere. Quindi non sapeva ritradurre la vista in qualcosa che poi veniva compreso. E addirittura dice ancora Evalo Solone stesso assumeva le funzioni di araldo per recitarle alle pubbliche assemblee. quasi una mimica della legge o una mimica dell'esempio della legge. Questo qui avveniva perché non tutti sapevano leggere e non tutti comprendevano quel modo di dire che era proprio delle leggi. Aveva siccome dire si aveva la necessità di passare attraverso l'emozione della poesia del canto perché le leggi potessero essere capite anche da chi non sapeva leggere. Non dimentichiamoci che c'è una piccola parentesi non dimentichiamoci che Evalo stesso ed altri aveva ad un certo punto hanno capito che i canti dell'Iliade e i canti dell'Odissea erano l'enciclopedia ambulante delle tribù greche dei villaggi greci e chi le sapeva recitare quindi l'Aedo che le recitava e le continuava a dire non è fuori dal mondo che fosse stato in passato come dire intimamente legata a quella che poi noi abbiamo visto essere la figura degli sciamani in altre civiltà perché questo perché era la memoria dell'intera civiltà quindi la memoria degli usi e dei costumi di un certo popolo di una certa di una certa civiltà appunto il ripetere mnemonicamente con partecipazione emotiva quanto veniva detto nella poesia omerica era nello stesso tempo un processo di normalizzazione e di normatività dei comportamenti dei singoli nelle diverse situazioni che si venivano a presentare durante la vita di quella stessa tribù di quella stessa civiltà ecco che tutti non è che sapevano quasi nessuno sapeva leggere e scrivere non soltanto ma quasi nessuno riusciva a capire quello che era scritto nella legge se veniva detto con le parole e i modi in cui era stato scritto e quindi esso stesso doveva essere mimato capito mimato quindi cantato detto sotto forma poetica ecco che Solone per spiegare in che cosa consisteva qual era il contenuto di una certa legge la traduceva poi in poesia e lui si trasformava in un attore per mimare quello che significava la legge stessa la condizione i termini in cui era applicabile e veniva doveva essere applicata quindi ripetevelo che egli riproduceva le sue norme in componimenti poetici e addirittura assumeva le funzioni di araldo per recitarle alle pubbliche assemblee non è questo un'eloquente testimonianza dell'esistenza in questo periodo di un pubblico analfabeta al quale si chiedeva di ascoltare di ricordare e di ripetere ma non si richiedeva di leggere quindi si ascolta si ricorda e si ripete ma non veniva chiesto al pubblico di leggere quindi questa qui grosso modo è la condizione quindi Eraclito passiamo ora dalla dalla Grecia da Solone ad Eraclito ricordatevi le date siamo all'incirca nel 499 grazie al prestigio di Eraclito come discendente dei basilidi fondatori di Efeso Melancoma fu mandato via ma tempo prima e quindi era vigente attenzione Melancoma era il tiranno tiranno di Efeso che venne mandato via venne ostracizzato ma insieme a lui era stato per così dire ostracizzato anche Ermodoro Ermodoro abbiamo visto che era in intimi rapporti e come dice Santo Mazzarino nel suo scritto fra Occidente ed Oriente Ermodoro ed Eraclito facevano probabilmente parte della stessa eteria corrente politica dove corrente politica e famiglia e famiglia diciamo e rapporti di stirpe si uniscono si intrecciano Ermodoro Ermodoro però era stato il nomoteta per quanto riguarda la polis di Efeso quindi aveva lui emanato per così dire scritto la legge che poi viggeva ad Efeso una volta che si è stati liberati da Melancoma che dovette andare via che fu mandato via ora a chi fa riferimento o a cosa meglio fa riferimento Eraclito nel suo scritto sulla natura che viene intitolato sulla natura fa riferimento al testo delle leggi scritto da Ermodoro abbiamo visto come questo Perifusius di di Eraclito allora io dico sempre Eraclito anche se forse in greco è meglio dire Eraclito perdonate questa mia diciamo questo mio dire che ormai ho preso dirlo così e lo dico così allora dicevamo a chi fa la volta scorsa avevamo visto come il sulla natura di Eraclito sia uno spronare anche gli Efesi io li ho chiamati Efesini si chiamano Efesi eccetera gli abitanti di Efeso i cittadini di Efeso a fare la guerra contro i persiani quindi a vincere avevamo detto che anche uno scritto dove Eraclito spinge gli Efesi a sopportare le fatiche per prepararsi alla guerra ma non è questo il nocciolo dello scritto di Eraclito il nocciolo che a noi interessa sottolineare ora in questo video dello scritto di Eraclito è che Eraclito commenta il significato delle leggi scritte da Ermodoro quindi attenzione bene perché specifichiamo che cosa intende Eraclito con il termine Logos e ritorniamo a leggere il famoso scritto il famoso frammento 1 di questo Logos che è sempre gli uomini sono incapaci di comprensione allora attenzione abbiamo detto che l'interpretazione che diamo dello scritto per Iphiuseos di Eraclito è la seguente il termine Logos con il termine Logos Eraclito si riferisce al testo scritto delle leggi di Ermodoro chiaro? quindi quando Eraclito dice Logos intende le leggi scritte da Ermodoro quindi quando si dice di questo Logos che è sempre gli uomini sono incapaci di comprensione semplicemente può anche significare che di questo testo di leggi di questo Logos che è sempre che significa che è sempre che è scritto che è lì che vale ogni giorno perché vale ogni giorno così per come esso è scritto appunto perché è scritto e ora qui naturalmente bisogna andare ancora più nel dettaglio perché dice per noi ci sono alcune noi uomini del ventunesimo secolo il ragazzo che si approssima che si approccia allo studio della filosofia è scontato oggi che una legge è lì e che essa si applica fino a quando non decade eccetera eccetera ma all'epoca non lo era e bisogna avere idea di che cosa significava applicare la legge all'epoca all'epoca applicare la legge significava che vi era un giudice che giudicava sui casi particolari e non essendoci una legge scritta ogni giudizio era ogni giudizio era discrezione del giudice stesso e qui il termine isonomia isonomia è un termine che ricorre spesso tra i greci della Ionia in quel in quel momento storico isonomia significa che la legge non è più a discrezione del giudice ma la stessa legge è uguale per tutti per tutti i cittadini della polis attenzione qui il discorso è da capire bene questo non si isonomia non significa che tutti i cittadini della polis hanno gli stessi diritti no non significa questo significa che la stessa legge non è a discrezione del giudice e la legge non è a discrezione del giudice perché è scritta se non vi è una norma scritta il giudice davanti a casi simili può decidere cose completamente diverse proprio perché giudica in base a quello che lui sente è lui il giudice è lui il magistrato non in base a quello che c'è scritto non in base ad una norma che è scritta nella legge isonomia quindi significa nomos legge isos uguale uguale per tutti in questo senso qui la stessa norma vale oggi come vale per domani e se un certo cittadino si trova in quelle condizioni oggi si troverà e un altro cittadino si trova nelle stesse condizioni sono tutte e due sottoposti alla stessa legge in questo senso qui quindi non tutti i cittadini hanno gli stessi diritti ma per tutti quei cittadini che per esempio rientrano in una particolare categoria la legge è la stessa e il giudice deve giudicare in base a questa norma scritta che vale oggi e che varrà pure domani questo vale oggi e vale pure domani è appunto quello che Eraclito vuole sottolineare quando dice di questo logos che è sempre è sempre cioè non è che può valere oggi un qualcosa a discrezione del giudice un giudizio a discrezione del giudice domani non vale più perché il giudice ha cambiato idea no se per logos intendiamo testo scritto e in questo caso particolare possiamo intendere testo scritto delle leggi di Armodolo perché ci troviamo ad Efeso allora logos significa testo scritto delle leggi quindi di questo logos che è sempre gli uomini sono incapaci di comprensione incapaci di comprensione perché non tutti sanno leggere ok né prima di avere sentito parlarne né dopo aver sentito parlarne la prima volta ora attenzione bene perché io non sto prendendo la traduzione di Antonio Capizzi ma una traduzione che rientra nel commento ai frammenti presi dal Diers ecco perché fate attenzione perché Capizzi la traduce molto dettagliatamente la leggeremo dopo però voi che vi ritrovate ad avere il frammento originario farete una traduzione simile a quella che io vi sto leggendo ed è questa che deve essere capita bene perché se la dettagliamo troppo poi ne perdete il filo allora né prima di avere sentito parlarne che significa prima di avere sentito parlarne se io ho qui la legge e ve la sto leggendo voi sentite parlarne e non capite né dopo averne sentito dopo averne sentito parlare la prima volta ma neanche se una volta io ve la leggo voi riuscite a capire perché ricordatevi di Solone di Solone perché Solone era costretto a recitarla sta legge ok perché altrimenti non veniva capita perché il linguaggio della legge è secco in un certo senso capite è arido non è accompagnato dall'emotività che accompagnava la poesia quindi anche se voi ve la sentite dire una volta voi non l'avrete capita lo stesso perché non siete nelle condizioni mentali di poterla capire sta dicendo in questo scritto Eraclito ricordiamoci che Eraclito che parla e anche se tutte le cose avvengono secondo questo Logos tutte le cose che significa tutte le cose significa tutto ciò che accade nella città anche se tutto ciò che accade in Efeso sta dicendo Eraclito anche se tutto ciò che accade in Efeso avviene secondo la legge stabilita e scritta da Ermodoro quindi stabilita e scritta Logos significa questo secondo questo Logos essi si mostrano inesperti anche se noi seguiamo questa legge questi uomini si mostrano inesperti non sanno quando si cimentano in parole di nazioni quale quelle che io presento distinguendoci ciascuna cosa secondo la propria natura e spiegando come essa è distinguendoci una cosa secondo la propria natura vuole dire distinguendoci una cosa per ciò che significa all'interno del testo della legge e per quello è il modo in cui voi la praticate e spiegando come essa è spiegando di che cosa stiamo parlando e in che cosa consiste sempre in riferimento ai termini della legge capite non è il tutte le cose dell'universo questo è un enorme veramente un enorme equivoco non è il tutte le cose dell'universo il logos è questa legge ciò a cui si riferisce è la vita della città ma gli altri uomini non sanno ciò che fanno da svegli così come dimenticano ciò che fanno dormendo allora e anche su questi svegli e dormienti se non sono sprecati o pliti di inchiostro ma cerchiamo di capire quindi ci sono si è svegli e lo anticipo così ci viene più facile capirlo si è svegli quando si sa leggere lo scritto della legge ed interpretare lo scritto della legge e si è dormienti quando questo non si è capaci di farlo non si intende sul farlo dormire significa essere incapaci di leggere e di interpretare la legge essere svegli significa essere capaci di leggere il testo della legge e di interpretarlo siccome la maggior parte degli uomini non sono capaci di farlo dice eraclito io lo faccio per loro attenzione che qui c'è un passaggio impressionante io lo faccio per loro leggendo che cosa attenzione bene leggendo il testo che io qui ho scritto e che a voi vi presento per interpretare l'altro testo che è il testo delle leggi in qualità di che cosa lo fa eraclito diciamo un attimo cerchiamo di andare un attimino avanti in qualità di che cosa eccolo lì il punto in qualità di che cosa in qualità di ciò che noi dopo diremo essere un filosofo capite il punto qual è eraclito ed ecco perché ho voluto aprire la nascita per così dire della filosofia con l'immagine di Efeso che consegna il proprio testo scritto il proprio testo nel tempio di Artemide ad Efeso in realtà non è questo il momento in cui sta consegnando il testo ora lo sta leggendo e sta cercando di spiegarlo e alla fine della sua vita che consegna il testo nel tempio di Artemide ad Efeso ora arriveremo anche a quel punto lì però per così dire eraclito si fa interprete per chi non non arriva a comprendere la scrittura eraclito si fa interprete della scrittura delle leggi del testo scritto delle leggi e lo fa non semplicemente attraverso il parlare ma attraverso un'ulteriore scrittura quindi attraverso un ulteriore libro il suo il Perifius Eos ora attenzione quindi che di fatto eraclito stabilisce un rapporto si stabilisce come egli stesso come uomo di mediazione tra chi fa le leggi ed il popolo che deve usufruire e adottare queste leggi cioè di fatto eraclito assume la posizione che il filosofo ha assunto dalla sua epoca fino ad oggi in alcuni casi fraintendendola molto o equivocandola o facendo assumere al filosofo chissà quali altri essere a fianco al sovrano essere colui che cioè facendo assumere al filosofo ruoli fin troppo importanti ma il primo passo che fa eraclito è il passo essenziale diciamo alla filosofia c'è chi fa la legge a una parte della filosofia c'è chi fa la legge ed armodoro c'è il popolo che ha necessità di capire questa legge c'è eraclito quello che sarà detto il filosofo che fa da mediazione tra chi fa la legge e chi usufruisce di questa legge bene 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 fate molta attenzione ora il filosofo quindi è il mediatore tra l'esperto di leggi e chi usufruisce di queste leggi questa è la figura del filosofo che sin dall'inizio è presente nella storia della filosofia chiaro bene apriamo bene le orecchie ora perché di questa lezione oggi abbiamo bisogno capito perché da una parte ora apro una parentesi poi ritorniamo alla storia però è importante è importante questa questione qui da una parte abbiamo gli esperti ok nel passato si parlava di esperti delle leggi dall'altra abbiamo il popolo che non è esperto di leggi o non è esperto di tecnica che anche qui stiamo parlando di tecnica attenzione il problema sin dall'inizio è anche un problema tecnico perché perché se la scrittura della legge è tale che non viene capita nemmeno se viene letta ok vuol dire che è un problema di tecnica della parola tecnica della scrittura scritta in modo tale che il popolo non capisce bene quello e non soltanto il popolo ricordiamo che ci sono anche i giudici che non capiscono bene che cosa vuole dire quella legge scritta in quei termini e se ha bisogno della poesia se ha bisogno che questa legge in un certo senso venga cantata per essere capita quindi c'è necessità di una mediazione mediazione ok ora quindi vi è la necessità di una mediazione fra la tecnica gli esperti e chi non sa di questa tecnica che è diciamo il popolo ecco quale sin dall'inizio e in maniera concreta razionale e di buon senso la figura del filosofo il filosofo si pone a metà strada tra i tecnici ed il volgo e cerca di spiegare per come può quello che dice il tecnico e cerca di spiegarlo al volgo quello che noi diciamo volgo quindi a volgo coloro che non sanno bene di che cosa si stia parlando perché il linguaggio è alido tecnico chiaro bene apriamo le orecchie il filosofo quindi non si pone contro la tecnica qualunque tecnica che sia la tecnica delle leggi la tecnica della scienza qualunque atteggiamento tecnico il filosofo non si pone contro la tecnica chiaro ma il filosofo interpreta per chi non conosce il linguaggio tecnico appunto quel linguaggio tecnico e gli mette il patos per esempio io ci sto mettendo nel dire cerco di metterci nel dire quanto vi sto dicendo cerco di spiegarlo in questo senso qui questa è la figura del filosofo il filosofo non si autonomizza dalla società ed eraglito è proprio colui che ce lo fa vedere questo fatto qui il filosofo non diventa autonomo non diventa una figura autonoma rispetto alla società ma è un interprete di parti della società e quindi interpreta la tecnica uno due si ha la necessità che questa benedetta tecnica e ricordatevi quanto vi ho detto negli altri video riguardanti a Peter Sloterdijk l'apertura dell'orizzonte che è un'apertura all'essere ma è esso stesso un'apertura tecnica si ha la necessità di una mediazione in questa apertura capite si ha la necessità che il linguaggio della tecnica venga mediato ma chi volete che lo medi non lo può mediare il tecnico non lo può mediare il popolo chi volete che lo medi lo media il filosofo questo qui è il suo compito mediare il linguaggio tecnico che non è un compito da poco nello stesso tempo naturalmente poi il filosofo può anche può anche aggiungere cercare di comprendere cercare di capire cercare di dare delle idee intuitive anche ai tecnici e o dare delle idee di comprensione di organizzazione anche al popolo e una figura in questo senso il filosofo nasce come figura di mediazione ed una ed un archetipo scusate questa frase però è un po' così un archetipo storico di questa figura di mediazione è appunto Eraclito Eraclito assume la postura di una figura di mediazione tra i tecnici diciamo gli esperti di legge in questo caso Ermodoro ed il popolo ecco perché è necessaria oggi più che mai la filosofia perché oggi scusate si parla della filosofia come necessaria visione che interpreta o vuole interpretare la realtà ma questa qui è per così dire un'aberrazione io la vedo più come un'aberrazione della filosofia il filosofo nasce come politico in quanto cerca di mediare tra parti della società capite questa è la figura politica del filosofo ci sono due parti delle società che noi possiamo sempre dire in tecnici elite tecniche che hanno pensato le leggi che oggi pensano la scienza capite che se oggi si parla di nucleare ci deve essere qualcuno che deve arrivare fino al popolo e spiegare che cos'è l'energia nucleare una bomba nucleare se c'è una guerra e si entra nella tecnica della guerra ci deve essere qualcuno che deve arrivare fino al popolo e spiegargli in che cosa consiste questa tecnica della guerra eccetera eccetera se si parla di potenza ci deve essere qualcuno che parla se si parla di economia ci deve essere una mediazione che cerca di arrivare fino ai cittadini capite ci deve essere questa mediazione ma questa mediazione non può essere fatta dai tecnici può essere fatta soltanto da quelli che noi definiamo i filosofi ed ecco perché è necessaria la filosofia ma non soltanto io un po' mi accaloro per questo perché magari ho in mente alcune persone che hanno proposto addirittura di togliere la filosofia di non studiare più filosofia una catastrofe questa sarebbe una catastrofe però da un altro punto di vista sono fiducioso perché al di là di quanto viene proposto da persone che diciamo per essere buoni non hanno riflettuto abbastanza sull'importanza che la filosofia ha da un punto di vista storico proprio oggi la come dire la spontaneità la spontaneità della società costruisce per così dire produce filosofi piccoli e grandi spontaneamente infatti vediamo vediamo diversi testi scritti libri video eccetera siamo per così dire pieni siamo come dire circondati sempre da flussi di informazione che appunto mediano fra i tecnici e i cittadini della polis il discorso che si fa sull'economia qualche video che ho fatto anch'io sul TTF non è un tentativo di mediazione tra il linguaggio dei tecnici e quello che è il linguaggio semplice del popolo e non è in base a queste mediazioni che poi il popolo prende le proprie decisioni sì e allora quindi il filosofo ha un ruolo prettamente politico capite chi vuole sì chi vuole far sì che la filosofia sia una un'ulteriore expertise ecco che non ha capito niente di filosofia non ha studiato la storia della filosofia e toglie alla filosofia il ruolo che ha sempre avuto e che deve continuare ad avere necessariamente necessariamente il filosofo il filosofo stesso può diventare un tecnico di una certa particolare area ma questa è per così dire una possibilità che si apre parliamo di logica no ma a quel punto diventerà un tecnico a necessità che le sue parole tecniche vengano trasferite ai cittadini della polis attraverso un'alteriore mediazione filosofica e quindi sono necessari altri filosofi questo lavoro di mediazione non può essere interrotto finito questo lavoro di mediazione cari miei finisce la democrazia perché la mediazione del filosofo inteso in questi termini è necessaria in democrazia se non c'è questa mediazione i tecnici non dovranno dare conto a nessuno perché le loro parole saranno incomprensibili ai cittadini della polis e i tecnici stessi diventeranno tiranni capite quindi anche questo è il problema dei vaccini dei farmaci eccetera eccetera della medicina volenti o nolenti ci vogliono le mediazioni dei filosofi e che queste mediazioni siano comprensibili ai più questo è il lavoro della filosofia poi anche il filosofo ripeto può diventare tecnico però tecnico di una certa area e un po' di tecnica se ne deve intendere perché se uno si mette a parlare di vaccini deve intendersi di vaccini se uno si mette a parlare di logica deve intendersi di logica se io vi sto facendo un discorso sulla storia della filosofia la nascita della filosofia devo intendermi qualcosa devo andare almeno ai testi a qualche testo di filologia devo un attimo entrare nella tecnica filologica almeno nei nomi di chi ha studiato determinate determinate questioni altrimenti quanto vi sto dicendo è che è semplice da dire cioè io non vi sto dicendo qualcosa che è incomprensibile penso è qualcosa di semplice da dire ma che si basa su uno studio approfondito un po' più approfondito del normale studio tecnico però quello che ne tiro fuori non è qualcosa che vale soltanto per i tecnici anzi come avete visto ne abbiamo tirato fuori una lezione che vale per la filosofia stessa quindi non è che il risultato tecnico sia un risultato che rimane nell'area della tecnica il risultato tecnico è un risultato che vale in tutte le aree e che vale per l'intera comunità questo è quanto chiuse questa lunga parentesi ma penso si capisca quanto questa lunga parentesi è necessaria ripetiamo ora la traduzione che del testo di Eraclito ne ha data ha fatto Antonio Capizzi sebbene il testo qui esista sempre ci sono persone che non ne capiscono nulla né prima di averlo ascoltato né almeno in un primo momento dopo averlo ascoltato questo abbiamo capito no? che significa il tipo di scrittura la tecnica della scrittura della tecnica del parlato di quel testo che è arido eccetera infatti benché tutto obbedisca a questo testo tutto si intende tutto ciò che avviene nella città segue la legge essi danno l'impressione di non intendersene cioè non sanno che è un'applicazione della legge quello che sta accadendo intendersene eppure sono proprio quelli che si intendono di quel genere di parole e di fatti che io mi accingo a spiegare distinguendo ciascuno di essi secondo la sua natura e dicendo com'è chi è che non se ne intende proprio i giudici eppure sono proprio quelli che si intendono di quel genere di parole e di fatti che io sto cercando di spiegarvi quindi vi sto dicendo voi giudici non sapete leggere e quindi non intendete quello che c'è nella legge io ve lo devo spiegare quanto al rimanente delle persone quindi tutti gli altri sfugge loro il significato di ciò che fanno da svegli anche se stanno ascoltando e anche se stanno leggendo esattamente come quello di ciò che fanno quando dormono non capiscono non intendono quello che vi è scritto quindi bisogna spiegarlo ci sono quindi due livelli saper leggere saper leggere quello che è scritto e il secondo livello è intendere quello che c'è scritto ed appunto questo è il compito che si è dato Eraclito andiamo un attimo al frammento 2 perciò bisogna seguire ciò che è uguale per tutti si intende la legge scritta ossia che è comune ecco questo è il fatto importante che è comune una legge dice Eraclito in quel caso comune a tutti infatti ciò che è uguale per tutti coincide con ciò che è comune a tutti la legge scritta che in questo caso ripeto quella di Armodolo ma anche se il logo si è uguale per tutti la maggior parte degli uomini vive come se avesse un proprio intendimento che significa questo è molto interessante cioè anche se c'è una legge uguale per tutti la maggior parte vivono come se questa legge non ci fosse come se cioè questa legge potesse essere intesa in modo singolare per ognuno come se ognuno potesse intendere questa legge a modo suo ma perché perché questo oro non sanno leggere e allora intendono un po' così quella legge seguendo semplicemente le consuetudini qui c'è un problema molto interessante che Eraclito fa venire a galla cioè si può intendere la legge nel senso che c'è chi usa la legge senza saperlo ma non perché ha letto che quella norma ha letto ha letta quella norma sappiamo tutti che le strisce blu significano parcheggio a pagamento però chi di noi è andato a vedere la norma ed averla letta lo sappiamo perché per consuetudine è così capite in piccole cose come in grandi cose quindi c'è chi intende un po' la legge a modo suo immaginate che trovate delle strisce che non sono del solito blu ma di un blu molto chiaro quasi celestino quasi turchese se uno intende la legge a modo suo può intendere che quelle non sono delle strisce blu capitemi bene e quindi per esempio che non sono delle strisce a pagamento capitemi bene non sono delle strisce a pagamento l'ha intesa a modo suo non è andato a leggere quindi si può seguire la legge perché si seguono gli usi e i costumi che ci sono nella polis ma si crede di seguire la legge invece si stanno seguendo i propri intendimenti della legge perché perché non si è andata a leggere la legge e ognuno la intende per così dire a modo suo mentre dice eraclito questo è un logos di tutti comune non significa comune a tutte le cose della natura ma comune a tutti i cittadini della polis leggo leggo ancora un brano del testo di Antonio Capizzi dal titolo paradigma mito e scienza pagina 142 avere una legge comune significa dunque essere ben desti presenti e attivi nella vita politica svegli in questo senso attenti all'applicazione delle norme al contrario rifiutare l'isonomia vivere come se ognuno avesse una saggezza propria comportarsi solo come figli dei propri genitori faccio un appunto piccolo e non come membri di un corpo sociale unico seguire insomma il diritto orale e consuetudinario familiare e gentilizio rifiutando la legge scritta comune a tutta la città è un po' come rifugiarsi nella sfera particolare dei sogni chiusa la citazione molto sintetico e molto esplicito quanto dice Capizzi attenzione comportarsi dice a un certo punto dipendendo naturalmente quanto dice Eraclito nel frammento 74 come figli dei propri genitori questa è la distinzione che molti secoli dopo millenni dopo fa la stessa Anna Arendt nel distinguere la società dallo Stato la società è familistica ok molto più come figli dei propri genitori no c'è l'isonomia c'è una legge scritta e astenersi e vivere come se questa legge non fosse scritta non fosse isonomica rifiutando quindi come legge scritta comune a tutta la città e si vive come rifugiandosi nella sfera particolare dei sogni allora per concludere vi dicevo che quindi questo è ciò che mi interessa di questi due frammenti 1 e 2 di Eraclito vi avevo accennato anche al fatto che molti tra cui lo stesso Heidegger parlarono dell'oscuro Eraclito bene se ci sarà tempo e ne avrò voglia entreremo nel regno di questi incubi heideggeriani ma non solo heideggeriani attraversano tutti i millenni i millenni della storia della filosofia altrimenti io continuerò con una particolare storia della filosofia a cui ora non continuerò con gli altri besocratici magari lo affronteremo ma in un secondo momento il prossimo video che farò riguarderà la nascita della scienza in greca scusatemi la nascita della scienza in grecia e perché come si è occultata come non si è capito diciamo come si è frainteso come si è equivocata la nascita della filosofia così si è equivocata la nascita della scienza anche se so che molti o alcuni hanno letto già il libro di lucio russo dal titolo la rivoluzione dimenticata mi interessa in questi video sottolineare i dettagli degli studi che lucio russo ha fatto sulla nascita della scienza in grecia vedremo anche alcune questioni che riguardano il rapporto tra scienza greca e filosofia greca parliamo già del periodo di platone e di aristotele perché voglio porre l'accento su determinati aspetti della filosofia ora possiamo dire quindi che con Eraclito nasce veramente la filosofia e il filosofo è interpretato da Eraclito Eraclito stesso lo era una mediazione sociale una mediazione tra parti della società che semplificando possiamo dire essere le parti esperte una certa parte della società è esperta in certi settori ed il volgo il filosofo in carne e ossa Eraclito ha interpretato il ruolo di mediatore tra queste parti della società la postura assunta da Eraclito è la postura dell'esegeta delle leggi emesse da Ermodoro leggi che sono state scritte il logos e il testo scritto Eraclito quindi era per così dire un cultore della parola scritta e consegna alla fine della sua vita quasi alla fine quasi alla fine della sua vita consegna il suo testo scritto nel tempio di Artemide ad Efeso come dire che anche l'ultimo Eraclito quello che non credeva più agli uomini perché ricordatevi poi la guerra fu persa per siano arrivati eccetera l'ultimo anche l'ultimo Eraclito quello che non credeva più agli uomini continuava a credere a credere nella forza persuasiva delle parole scritte testimoni di lotte passate agli occhi e alle orecchie di uomini futuri questo è la cosa per cui se un filosofo è filosofo vengono i brividi ripeto quanto dice capizzi e quanto dice dei filosofi anche l'ultimo Eraclito quello che non credeva più agli uomini continuava a credere nella forza persuasiva delle parole scritte testimoni di lotte passate agli occhi e alle orecchie di uomini futuri i filosofi non parlano solo al presente parlano per gli uomini che verranno questo è il grande sentimento che ha spinto Eraclito a parlare del testo di Ermodolo e a essere veramente il primo filosofo grazie e al prossimo video